Striscia la notizia 23 settembre 2024, prima puntata Voglio farvi un po' la recensione di questa bella puntata di ieri fornendo il mio giudizio e il mio punto di vista Beh, che dire, è stata sicuramente una bella puntata Abbiamo avuto delle novità In primis, una coppia formata da uomo e donna come conduttori Da una parte il buono neofrassica dall'altra la stupenda, magnifica e sempreverde Michelle Usiger E poi, un'altra meravigliosa novità Abbiamo una verina e un guerino, non due verine E devo dire che in questa versione nuova c'è, diciamo così, molta, molta euforia Molto brio, a mio potesto avviso Coppia indominata perfetta, quella formata da uomo e donna E da nizzeruzi che non riesce a divertire l'altra L'altra riesce a divertire l'uno Poi abbiamo anche una novità importante per quanto riguarda gli inviati Perché? Perché abbiamo il buon Dario Ballantini Che fa una nuova imitazione In particolare imita, secondo me, in modo perfetto Il generale i bannacci Insomma, dobbiamo riconoscere che è stata, diciamo così, una piena puntata Conduita da elementi di pieno brio, di piena simpatia, di pieno rispetto Ma soprattutto una puntata fatta come Cristo comanda Voto nove e mezzo Non mi sento di mettere di meno, non mi sento di mettere di più Ma nove e mezzo pieno se lo prende E' stata insomma una puntata indimenticabile Momenti piacevoli, erice, straordinari, nonché divini, nonché sublimi Oltre a questo però anche la ironia di entrambi Bene, iscrivetevi e commentate Una buona sera a voi